Sono Andrea Truocchio e Saverio De Santis, gli ultimi arrivi in ordine di tempo della New Matter Volley Castellana Grotte, che aveva già ufficializzato, Izzo, Teo Lopez, Borgogno, Tiozzo, Fiore e Toscani. Truocchio, classe 2000, proviene dalla Emma Villa Siena, dove l'anno scorso componeva il reparto con gli esperti Matteo Zamagni e Rocco Barone. Il posto 3 arriva a Castellana per giocarsi il posto da titolare con presta e un giocatore più esperto che il DS De Mori sta chiudendo in queste ore. Si fa il nome di Alessandro Arienti, 28 anni, che ha vinto il playoff di Serie A3 con il Motta di Livenza guidato dal castellanese Pino Lorizio. Prima conferma ufficiale, invece, è quella di Saverio De Santis. Il libero resta in giallo-blu per il terzo anno consecutivo e andrà ad affiancarsi ad Alessandro Toscani. Calabrese è nato all'Ocri, classe 99, alto 1,75 m, cresciuto sportivamente in C e B con palmi e 5 frondi. Nonostante la giovanissima età, De Santis sarà la sua quinta stagione di fila in Serie A2, 3 con Castellana e ancora prima la Mezzia e Gioia del Colle. Ben 104 le presenze nella Serie Cadette in tutte le competizioni, tra Coppa Italia e playoff compresi, 51 quelle da protagonista del suo ruolo, anche maglia giallo-blu.